Non può andare per la rimessa corta verso Della Cruz, va allora in area di rigore, si gira Borre, cerca la palla in mezzo Della Cruz, si inserisce, ce l'ha sul destro, spara, Andrada, respinge, corto, si salva il Boca, ma va giù Borre, è tutto buono per Raffaele Klaus che si sbraccia, vediamo se la pensa allo stesso modo il VAR, bussa, il River, risponde. Organizzata in velocità, il Boca Suniors ha grandi qualità in questo senso per essere insidioso. Vogliamo che vuod кон Head blanc fanétat Blood, a Luke lui gloria, c'è stata un'fissica leggera Sì, dépendre, è una confrida con ciò inي esa sua è una Quattro qua, voglio vedere dove to rimatta, voglio vedere il possibile finale Non ho necessita parlare con lui, non? Nel quickly si senti male, voglio vedere chi ha avuto il basso,yah, vado Allah Voglio vedere chi ha avuto il basso solo, voglio vedere chi ha avuto il basso allora Se sei in zona neutra Se sei in zona neutra In fase di attacca De blanco Sì, sì, sì Pelotto in zona neutra Dalla in zona neutra Necesito parlare con lui? Quando pare, necessito che pare Necesito vedere Dalla punto di contatto Dalla in zona neutra Dalla in zona neutra Dalla in zona neutra Stai attacca 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 Klaus Klaus Te invito A un possibile Penal on field review Si sì dalle atras dalle atras dalle atras dalle due dibattini e questa questa si e la parte da questa e la che abbiamo erano un po' più sì si, 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 stanno aca aca, punto di contacto, punto di contacto, dale aca punto di contacto, ese punto di contacto, ese dale, velocità normale si, si ok, il numero 3, ok confirmado numero 3 ok numero 3 numero 3 confirmato numero 3 bene